FUCA! Noi ridiamo a Mami Lausa, ma ha una parente in Parlamento, sì. Cosa? Eh! Ma era già come tutto in ordine. Che bravo FUCA. Non avevo tante cose. Sto dire delle piante, lo stereo, i manga, tutto lo scatolone dei trucchi. Ehm... Somewhere Fancy. Sì, ho pensato che dovrei sapere che tutti i caratteristiche definiti e ciò che non posso fare alcune combattie reali, quindi... Oh, tu sei un lavoro davvero difficile, Yamagishi-san, e tu hai una capacità fantastica, anche... Ora che pensavo su questo, tutti in la storia è abbastanza fantastica, eh? Sanada-senpai è uno dei più forti, e il nostro leader ha un potere come un altro altro. Beh, lui è Junpei... Beh, lui è Junpei... Fuka non è che evochi i demoni, ho i sectres di Fuka e Machima di Chainsaw, ho i sectres... Ah, i sectres in inglese, ok. Beh, io ce l'ho, e anche Mitsuru. I just don't want to see anyone go down or get hurt, that's all. Come on, I think a Kutsuki song's gonna be... Oh, and you can just call me Yukari. I hope you like it here, Fuka. I'm sure I will. Thank you, Yukari-chan. Yukari-chan is in trouble! Ciao, Michele! Eh, cosa? Oh, le nuove fasce... Oh, le nuove divise! Questo qui è... Persona 3 Rilod. Così, finalmente torniamo il... Togliamo finalmente il golpino smanicato da Kiko? Teurgia. Teurgia. Magia spirituale che può raggiungere gli dèi. In parole povere si sincronizza con le emozioni dell'utente e quando si raggiungono le giuste condizioni permette di sperare un attacco potentissimo. Ok. 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 D'accordo. Ah, don't worry about that. Certo! Oh, come continuo a dire Lalla Waffle per Ughia. Chi è Lalla Waffle? Ah, finalmente entra Mitsuru e Junpei va a raccogliere la spazzatura. Va a svuotare i cestini in dormitorio. Mi tuber italiana. Quella con i capelli rossi? Ogni tanto mi compare nei reel di Instagram. Ed ecco che si è va. Lei? Ah, ok, ho capito. Allora chi è? Uno dei rarissimi bituber italiani. In realtà ce ne abbiamo è solo che non si rincula a nessuno praticamente. Let's go! Posso fare cose prima? A me non dispiace ma mi fate fare cose prima. Bene, grazie Mitsuru. E invece no. E andiamo direttamente e quindi non posso fare... Che palle Mitsuru! Oh, il gilet è per lui sempre, eh. Mamma Mitsuru. Mamma Mitsuru. Carina, Fuca. E' super coatto. Pa 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 pa. Eh beh, ci facciamo il tartarossano oggi. Certo perché Ikutsuki è anche fashion designer Certo perché non è un cazzo di diverso Ti hanno dato una fondina a scellare a te Il resto è uguale È molto lato e sturdoso Mi ricordo se sono i stessi materiali che... Parece che questa arm band non è solo per decorazione Oh According al manual Ci sono... Per esempio... C'è anche una funzione... Sorry... Non sembra che c'è tanta informazione Allo che posso dire è che Kiko che se ne fa di una fondina si usa i pugni Nella fondina c'è l'evocatore C'è la pistola che gli permette di fare di Persona 3 himself E Junpei sta in panchina No C'è la nostra ultima linea di difesa Eh sì sì Oh Ok Here he goes Here he goes Here he goes Again Oh grazie Silvia Grazie per il raidino Da notare come l'evocatore di Junpei sia a metà coscia Sotto la giacca che tiene in vita Sì è un genio Junpei proprio Grazie ancora Silvia Ok Dai ultimo piano Ci facciamo tutto il tartarus e let's go Eeeh Io adoro Persona 3 Lux Vediamo quale nuovo incubo sarà questo piano Let's go Allora Grazie è un tubo di ferro da idraulico Spada Esases Ok vediamo le armi dell'esases Shane Meglio l'arma esases Bello dare confusione alta Ma preferisco Prego il tubo d'acciaio Via Arco esases Spadone esases No Meglio giuzumaru Tira pugni esases Stocco esases Ok Persona Mi riprenderei Oberon Che era Sembrava buono buonino Vediamo un attimo Persona Abbiamo bisogno di roba che sparagi No abbiamo Lilin Per il resto È tutto a posto Allora salviamo Pugano Let's go boys Già Già Sì 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 Debole a Bufu Debole a Probabilmente Bufu Agile Ma Bufu Boy Dai Queen of Execution Quanto hai giocato a Persona 3? A che punto sta nel gioco? Allora Abbiamo appena ottenuto Pukai Yamagishi Ma Non è la prima volta Che gioco a Persona 3 Io ho giocato Cinque volte a Persona 3 Portable Quindi Grazie Checco Grazie per il sapere il terzo anno Benvenuto tra i Phantom Thieves Madonna Mitsuru Mitsuru è stato incredibile Polvere d'anima Volvere d'anima Goccia dell'anima Uscio di Arca Pietra Vitale C'è nessuno su sto piano Vabbè Babe 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 Debole a Bufu Debole a zio Ah già Cambio Le due Si è magnifico Neal Before me Yes please Se questa è un'uscita Al Tartarus Di Tutorial Un po' Mi girano le ballotte Perché è paledemente Sprecare una sera Sutra feroce Persona 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 Perfec Perfec Coordination ho esplorato quasi tutto ciao Dora gemma padra pietra vitale eh cosa? ma si meniamo le mani mizuru vai tranquilla siamo divisi? beh grazie al cazzo da ora è uscito vent'anni dopo cosa? cosa? no! l'ombra smanacciona l'ombra smanacciona l'ombra smanacciona non ancora non ancora non ancora tutti stai 항상 protegendo me che ne faccio che ne faccio Hmm. Quando in battaglia le emozioni esplodono, tu e i membri del gruppo avete la possibilità di attivare la Teurgia. Attivare la Teurgia quando è il tuo turno e la barra della Teurgia è al massimo. A differenza delle normali abilità, non consumo HP o SP. Premi R2 per attivare la Teurgia, ricorda che non può essere usata se si è fissuto effetto di attirazione di stato. Danno da vento grave e un nemico ignora la resistenza. Top! Bene! Cos'era quella cosa? Eh, siamo qua. Sì. Nooo! Sì, è molto simile allo Showtime di Persona 5. Adesso è la prima volta che si sta bravissimo. L'hanno fatta molto carina a Fuca nel relobio. Quello attacco speciale fu sicuro, Yucatan! Come? Ho solo concentrato molto cari e pensato a me che ho fatto, e mentre pensavo di questo, ho sentito qualcosa che si spiega dentro. Ho preso la Persona 3 e Road, ma non so perché non mi sta prendendo e ho battuto il boss del treno. Ma stai mentre i Confident di Junpei e Yukari non mi si sbloccano. Perché non puoi sbloccarli. Junpei non è un Confident, Yukari la puoi sbloccare molto più avanti. Sì, è molto Shonen. E' tutto merito di Yukari. Da un po' di busta all'ego. Spera, quindi come evolvo in loro persona, si evolvono narrativamente da soli. Non è come in Persona 5, Kirito. PG preferito qui, Mitsuru ed Elizabeth. Poi mi piacciono Akiko, Shinjiro, Jesus with a Gun. Quindi, serata tutorial, va bene. Ah ah, contaci Junpei. Brava Yukari. Ora, tutti gli alleati non si usano la teurgia. Eh, Mitsuru, eh, Mitsuru. C'è sesso, calpestami. Cioè, fai quello che vuoi di me. Pi, 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 chi è che rompe i coglioni? Elizabeth, perdonami, non sapevo che fossi tu. Sì, si è aperto in un'altra zona. Ciao Elizabeth. Ciao tesoro. Ok. Quindi, stasera Tartaro. Pi, 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 chi è che rompe i coglioni? Chi è? Kenji. Eh, te pareva se non era Kenji! Quindi non è necessario che ci perda tempo a passare tempo con loro in caso, no? A questo punto quali sono le attività migliori da fare in Persona 3 Load? Allora, frequentare, ehm, frequentare i compagni di classe, ehm, Confident, perché quando ci sono gli esami e quando è vacanza non puoi maxarli. La sera di lunedì, martedì, mercoledì, lavorare allo Shagol Cafè, perché ti aumenta le stat e ti fa guadagnare soldi. Nelle altre serate in cui non ci sono Confident, maxare le stat individuali. E quindi, come sempre, maxare un intero, un intero piano del Tartarus in una serata sola. Orologio firmato. Ma, mega proteine, no? Allora, tetto. No, i Confident non sono secondari, sono comunque importanti per livellare i persone, e roba del genere. Cos'ho? Germoglio e pomodoro salutare. Mitsuru? Mitsuru? Mamma mia. Madonna mia, con questo golfino smanicato. Grazie. Ma volentierissimo, guarda. Mancano Junpei e Yukari, ma se non sbaglio mi hanno già dato quello che loro mi chiedevano. Allora, mappa della città. Paolonia. Paolonia. Preferivo Persona 4 e Persona 5 sotto il punto di vista della gestione del tempo Slice of Life, che poi sono gusti. Ma a me pare abbastanza uguale. Perché ti c'è dice? Ah, ok, perfetto. Sneaker elegante. Elegant! Portami una proteina per direttanti a Kiko. Voglio avere un aspetto alla moda. Yukari, immagino. Ok. Equip. Sneaker eleganti. Resiste paura. Eh. Stivali... Minchia, gli stivali alti di... Di Mitsuru. Tanta roba. Minito che inizia una seconda run per il Platinum. Non c'è una guida per seguire... Da seguire per maxare tutti? Credo di sì. Allora, fai nel tartaro il vestito alla moda? Va bene, la faremo nel tartaro. Allora. Dormitorio studentesco. Ciao Bayrex. Tutto bene, grazie. Ah, a Kiko. Grazie, Kiko. Minna stanza. Proviamo. Facciamo il Temperance. No, Hermit al Kana. Annuncio, fin del lancio di Innocence Sin. Abbiamo sperato, bla bla bla. Eh, purtroppo dobbiamo chiudere i server. Eh, sì. Maya mi dà le palle. No, le spalle. No way. No way. No way. Max che... Penso di sì. Andiamo a trovare un altro modo. What are you planning? Percepisco quanto Maya venga a me. Ricordate ragazzi, Maya, giga red flag enorme. Ma se riscattassi per Street Fighter 6 si può fare, Grovile. Non lo tocco da un botto, ma sì. Ok, ok, ciao. Eh, il finale Onizuka è tanta roba qua. Puka. Ok, non devo parlare con nessuno di loro. Quest. Eh, Carro, Mitras. Persona di vede tra quale fusione delle persone. Caccia alle ombre 3. Vecchio testo. Divinazione della rarità. Ok. Andiamo a fare la divinazione della rarità e poi andiamo al Tartaros. Cominazione della rarità. Ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Grazie.